Buona domenica. Oggi 4 dicembre è la seconda domenica d'avvento e continua il nostro cammino sulla parola del Signore. La frase di questa domenica è Voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore. L'annuncio è vitale, preparare l'incontro con il Signore, facilitare che il mondo di oggi possa conoscere Gesù. Questo annuncio però spesso appare come se fosse una voce nel deserto. Chi vuol spingere l'umanità a incontrare Gesù? Si trova che le sue parole risuonano quasi nel vuoto. Chi è davvero interessato a conoscere Dio? Chi ritiene importante farlo entrare nella sua vita? Non siamo forse dei predicatori in un deserto dove nessuno ascolta? La verità, la verità fratello, la verità sorella è che il primo deserto che non accoglie dell'annuncio è il nostro cuore. Se tu ti incammini verso l'incontro con Dio, se tu prepari nel tuo cuore la via al Signore, allora questa parola risuonerà in te. La via del Signore sarà preparata nel tuo cuore e il Signore non troverà più un deserto. almeno nel tuo cuore. E allora la tua voce non risuonerà dal deserto e nel deserto, ma risuonerà da un cuore pieno di Dio e conquisterà altri cuori. Voce di uno che grida nel deserto. Preparate la via al Signore. Buona domenica. Buona domenica.